Xiaomi Mi 4S presentato qualche settimana fa al Mobile World Congress di Barcellona questo telefono è stato messo in ombra dal duello mediatico Galaxy S7 Xiaomi Mi 5, il suo fratellone comunque ha degli ottimi materiali, abbiamo alluminio e vetro abbiamo 3GB di RAM, 64GB di memoria interna Snapdragon 808 abbiamo poi un display full HD da 5 pollici di ottima qualità insomma un telefono che ci ha davvero convinto e ci è proprio piaciuto andiamo a scoprire perché? la nostra video recensione completa prima di iniziare però mi raccomando lasciate un bel pollice alto iscrivetevi al canale e condividete il link di questo video ai vostri amici in modo da far conoscere Mecai Tech partiamo a vedere questo Xiaomi Mi 4S telefono che è stato messo in ombra dal suo fratellone maggiore lo Xiaomi Mi 5 come spesso accade però i fratellini minori alle volte hanno delle caratteristiche che li rendono unici vediamo se effettivamente anche questo Xiaomi Mi 4S ha queste caratteristiche lo andiamo ad accendere abbiamo una larghezza di 70,7 mm un'altezza di 139 mm lo spessore di 7,8 mm ed un peso di circa 133 grammi in mano si tiene davvero molto bene anche grazie alle sue dimensioni abbastanza contenute abbiamo un frame laterale in alluminio davvero buono anche fresato nella parte posteriore e nella parte anteriore vediamo se si mette a fuoco vedete è fresato in maniera buona non è tagliente è gradevole al contatto quindi l'impugnatura è davvero gradevole abbiamo poi il vetro per quanto riguarda la parte frontale e la parte posteriore che lo rendono però leggermente scivoloso quindi io vi consiglio di mettere una cover magari trasparente per non andare a coprire questa bellissima trama oddio bellissimo può piacere ma anche no abbiamo poi il carrellino delle due sim abbiamo una micro sim e una nano sim nano sim che è possibile andare a sostituire eventualmente con una micro sd per andare a espandere di memoria il telefono fino a 64 giga però credo che non vi sarà necessario in quanto questo telefono già di suo monta a bordo 64 giga di memoria interna quindi avrete la possibilità di utilizzare entrambe le sim che vi ricordo supportano entrambe il 4g senza banda degli 800 abbiamo poi l'altoparlante di sistema la presa per la ricarica del telefono che non è micro sb ma bensì type c quindi occhio ragazzi a non scordarvi il suo cavetto supporto all'otg abbiamo il microfono sulla parte destra abbiamo il bilanciere del volume con il tasto di accensione e spegnimento sono di ottima fattura anche se non c'è nulla che li distingue se non la lunghezza e quando abbiamo il dito qui alle volte mi è capitato involontariamente di andare a premere il tasto di accensione e spegnimento quindi questa è un piccola cosa stonata che secondo me ha questo telefono sulla parte superiore abbiamo il jack del cuffio da 3.5 il sensore a infrarossi quindi è possibile utilizzare il telefono come telecomando e il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali nella parte posteriore abbiamo invece una fotocamera da 13 megapixel con apertura focale 2.0 processore di immagine qualcomm ISP autofocus o pdf quindi messa a fuoco veloce video full hd 1080p abbiamo poi due led flash dual tone abbiamo dentro questo cerchietto il lettore di impronte digitali e qui devo spendere un 10 lode a questo telefono davvero buono il lettore di impronte digitali riconosce sempre il dito quindi il disco 10 volte su 10 non è velocissimo a sbloccare però riconosce il dito senza alcun tipo di incertezza ottimo abbiamo poi il lodo del axia me questa trama che può piacere e non piacere in questo caso abbiamo la colorazione oro è possibile avere anche nero rosa e bianco colore oro però che non è troppo kitsch ma è abbastanza elegante non troppo pesante tra l'altro in base poi all'increazione sembra quasi bianco rosa dipende un po' dalla luce che gli si riflette sopra nella parte frontale abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con apertura focale 2.0 85 gradi, grande angolare video full hd 1080p anche in questo caso riconosce poi la faccia e vi dirà la vostra età ma ragazzi a volte è meglio non saperla abbiamo poi il sensore di luminosità e di prossimità led di notifica che ora non vedete è nascosto a fianco alla fotocamera sotto abbiamo i tasti che sono a scocca soft touch quindi non fisici abbiamo sia il bottone del menu sia dell'home sia del back che hanno una retroilluminazione ed hanno una piccola vibrazione come feed quando li andiamo a prendere andiamo a sbloccare il telefono con la nostra ditone avete visto la velocità di sblocco devo dire che il display come vedete è abbastanza oleofobico però non è proprio il massimo qualcosa trattiene devo dire che però in linea di massima basta una passatina anche con la manica e torna subito pulito andiamo a vedere come cosa muove questo telefono lo facciamo con c più z questa volta abbiamo a bordo lo snapdragon 808 con due core cortex a 57 a 1,8 gigahertz e quattro core cortex a 53 a 1,44 gigahertz come vedete abbiamo la dreno 418 a 600 megahertz e devo dire che si comporta bene in quasi tutti i giochi senza troppi problemi abbiamo 440 e la pubblicità abbiamo eccola qui abbiamo 3 giga di ram interna quindi buono e abbiamo anche 64 giga di storage interno che però poi effettivamente ne sono liberi 54 perché gli altri sono occupati dal sistema sistema operativo che è android 5.1.1 in questo caso sto usando la ROM che è quella cinese barra inglese quindi non è quella internazionale ho però installato il play store tramite una facile procedura ho installato anche poi la lingua italiana senza alcun problema e vedete il telefono è perfettamente utilizzabile senza alcun problema e incertezza quindi se avete bisogno poi di sapere come fare a effettuare questi passaggi lasciate eventualmente nei commenti la vostra richiesta e cercherò di aiutarvi abbiamo poi una serie di sensori abbastanza lunga abbiamo a parte la luminosità e la prossimità abbiamo gli infrarossi come abbiamo visto il giroscopio sensore di gravità la bussola e il sensore all utile per tutti coloro che intenderanno andare a chiudere questo telefono in una flip cover quindi abbastanza completo come poi i sensori oltre al wifi abg-nc che supporta quindi anche 5 giga abbiamo il bluetooth 4.1 non abbiamo l'nfc come ormai siamo abituati con tutti i telefoni cinesi e abbiamo come ho detto usb o tg abbiamo delle ottime caratteristiche andiamo adesso a vedere la sostanza vediamo come funziona il telefono partiamo dalla fotocamera andiamo a scattare una foto vediamo subito la messa a fuoco che è guardate velocissima ottima vado a scattare la foto immediatamente ok come opzioni abbiamo le classic opzioni della MIUI per quanto riguarda la fotocamera con alcune aggiunte è interessante ad esempio quella di poter scattare la foto attraverso il parlato quindi noi diciamo una parola e lui automaticamente scalta la foto vedete ci sono un sacco di funzioni che abbiamo visto il fisheye eccetera eccetera abbiamo poi la possibilità di applicare dei filtri in modo live quindi se mettiamo sotto la nostra piramide vedete vi fa già vedere una preview qua la batteria quasi scarica dopo parleremo anche della batteria non la preview dicevo della nostra piramide che devo dire è davvero carina abbiamo poi la fotocamera frontale vedete ciao a tutti ragazzi che funziona discretamente a 5 megapixel di risoluzione andiamo a vedere però effettivamente come scatta poi queste foto vediamo un po' quella che abbiamo appena fatto guardate ragazzi che bella foto devo dire che le foto vengono davvero bene mi ha convinto al 100% questa fotocamera per quanto riguarda le foto quando c'è una buona luce ambientale diciamo che soffre un po' come andiamo a vedere adesso nelle altre immagini quando c'è poca luce comunque partendo dalla nostra colazione classica vedete che belle foto che fa e qui invece vedete come vi dicevo con poca luce soffre leggermente non sono nitidissime però tutto sommato sono non sono male le macro sono fantastiche addirittura possiamo andare a vedere il polline di questo fiore è una roba incredibile poi abbiamo beccato addirittura le api guardate che dettaglio che ha queste foto ricordiamo api che certamente non sono state in posa per noi quindi fatte col punto e scatta in maniera rapidissimo qui addirittura le abbiamo beccate che portano il polline all'interno dell'alveare devo dire che come lavorano le api è qualcosa di incredibile starei ore e ore ad osservarlo abbiamo poi la nostra foto senza HDR e la nostra foto con HDR vedete direttamente la differenza quasi esagerato il bianco comunque lo sparge un po' su tutta la foto in modo omogeneo quindi devo dire il risultato poi non è così male abbiamo poi le nostre gallinacce guardate qui che bella foto anche questa fatta col punto e scatta vedete che dettaglio incredibile anche qui il nostro leoncino classico vedete come addirittura il suo pelo è nitidissimo si distingue pelo per pelo questa invece è una foto fatta con la fotocamera frontale ragazzi come si fa non dire che è bello questo telefono guardate che bello che mi ha fatto incredibile sono stupendo non posso che parlare bene di questo telefono a parte agli scherzi devo dire ottime ottime le foto sia con luce un po' meno con poca luce però in linea di massima promossa la fotocamera andiamo a vedere la nostra galleria di test prima di andare a vedere la multimedialità andiamo a vedere la nostra galleria di immagini come vi dicevo i colori sono ottimi sono ben tarati il bianco è buono vedete qui abbiamo i nostri ventagli si vedono in maniera ottima ottimi anche i colori virano leggermente quando andiamo a inclinare ma non è per nulla male il display mi ha davvero convinto guardate che belle foto e come si vedono bene la griglia dei pixel è ben riprodotta anche il display è ben centrato è abbastanza oleofobico però non tantissimo quindi diciamo abbastanza però passando una manica o strofinandolo sui jeans in pochi secondi torna splendente il nero è leggermente ternente al grigio come classico di tutti i display di questo tipo e qui abbiamo i colori che vedete sono davvero ottimi colori che poi è possibile andare a tarare tra le opzioni che mette a disposizione la MIUI ma credetemi non ce ne sarà bisogno andiamo a riprodurre il video full hd vediamo se ce la fa ovviamente si non c'è neanche da vederlo ma insomma guardate adesso saltiamo di pari in frasca vediamo i tempi quindi ce la fa tranquillamente andiamo a vedere adesso se riproduce un 4k e mi sono stupito perché effettivamente ce la fa sempre di api parliamo ragazzi sempre di api ci spostiamo vediamo se la velocità non è poi così male avete visto ci è spostato abbastanza velocemente quindi anche per vedere video ovviamente funzionano anche i 2k che non vi faccio vedere anche vedersi video su telefono comunque risulta molto gradevole andiamo a vedere adesso per quanto riguarda la multimedialità abbiamo il nostro gestore delle pagine di facebook che è un po' come andare ad aprire l'applicazione facebook avete visto non velocissimo a partire però quando è aperta non c'è nessun tipo di problema è una scheggia quindi se avete tempo di aspettare qualche secondo per apertura poi le applicazioni vanno che è una meraviglia andiamo a vedere la parte di navigazione andiamo a aprire il nostro corriere.it andiamo a verificare se abbiamo la richiesta desktop no l'abbiamo attivata ora usiamo Chrome perché utilizzare il browser stock che arriva con la ROM cinese non è il massimo perché avremo un sacco di scritte cinese che ci romperanno le scatole una volta che è caricata la pagina andremo a vedere com'è scorrevole intanto vi parlo del wifi che riceve sempre molto bene così anche come la radio riceve sempre molto bene entrambe le due sim sia la principale che la secondaria diciamo hanno sempre un buon campo non ho mai visto alcun tipo di crisi o di difficoltà in entrambi le due sim entrambe le sim supportano le 4G è possibile switchare a caddo la connessione dati abbiamo visto che ha caricato completamente la pagina vedete una volta caricata va da dio questo telefono come si vuol dire quindi anche il pinch to zoom è buono segue bene il dito quindi non c'è nessun tipo di problema andiamo adesso a vedere come si comporta per quanto riguarda la music partiamo con la nostra canzone di test alziamo il volume al massimo devo dire ottimo l'audio molto forte ma non sgradevole anche un po' di bassi quindi mi ha convinto l'audio soprattutto per quanto riguarda l'altoparlante così come l'audio in capsula si sente comunque molto bene andiamo a effettuare la nostra chiamata con il via voce al 190 lo chiamiamo con la nostra sim Vodafone va bene ottimo l'audio anche per quanto riguarda il via voce in entrambe le occasioni abbiamo della discreta soddisfazione a sentire la musica e l'audio uscire da questo telefono promosso in pieno anche questo aspetto del telefono andiamo a vedere come si comporta nel gaming andiamo a avviare il nostro Real Racing 3 e come vedremo qui inizia a esserci qualche problemino ossia i tempi di ricaricamento che già abbiamo notato con le applicazioni però credetemi con i giochi si fa sentire doppiamente questa cosa innanzitutto perché inizia a scaldare qui ora che lo sto usando da parecchio tempo e quindi questa potrebbe essere una cosa che va a inficciare la durata della batteria che vi ricordo è da 3260 mAh supporta la ricarica rapida 2.0 a 9V 1,2A come vedete il gioco non è velocissimo a partire segno che le memorie interne utilizzate da Xiaomi per questo telefono non sono velocissime però quando siamo poi in gaming vedrete che il gioco gira bene nonostante abbiamo un display full HD 1920x1080 comunque quindi con molti pixel da muovere comunque avremo un descreto frame rate che ci permetterà di giocare in maniera buona diciamo a Real Racing attendiamo quindi ancora il caricamento della nostra gara a Suzuka il volume magari ci ricorda che quasi scarica la batteria va bene chi se frega ok non abbiamo ovviamente risparmi energetici attivi vediamo attenzione abbiamo tutti i dettagli vedete display abbiamo gli specchietti qui anche le nuvole che in questo caso il cielo è sereno però vi garantisco ci sono guardate capite di commento mecca il tech molto bene super sulla destra non si fa ragazzi non fatelo mai se non in pista incredibile guardate ruote fumanti tampona incredibile un pilota molto scorretto ma ragazzi ci passerei delle ore lo avete già capito no? quindi meglio fermarsi subito e posso dirvi anche alcune mie opinioni su questo telefono telefono che mi è piaciuto davvero tanto lo consiglio a tutti quanti l'unica cosa che mi frena dal consigliarvi di acquistarlo immediatamente è attendere che mi arrivi lo Xiaomi Mi 5 telefono che ho ordinato ormai più di un mese fa accidenti accidenti a loro devono ancora mandarlo detto questo magari basteranno aggiungere 80 euro al costo di questo Xiaomi Mi 4S per avere un Xiaomi Mi 5 magari la versione 32 giga quindi quella più piccola e scoprire magari di poter avere un telefono nettamente migliore aggiungendo solamente 80 euro comunque in ogni caso questo telefono è molto buono quindi se non avete pazienza di aspettare lo Xiaomi Mi 5 andate su sicuro compratevelo pure non vi pentirete chiaramente dovete essere leggermente smanettoni diciamo così per sistemarlo quindi installarvi l'italiano e installarvi eventualmente il play store anzi sicuramente il play store perché se no non ve ne fate niente del telefono comunque abbiamo ottime foto soprattutto quando c'è luce quindi fotocamera promossa abbiamo sicuramente un buon display ottimi colori abbiamo lo sblocco col dito velocissimo prende sempre l'impronta 10 volte su 10 mi ha davvero colpito ottimo anche l'audio batteria che nella media dura circa due giorni con uso medio quindi non eccezionale ma neanche poi così male senza ovviamente risparmi energetici attivi abbiamo il supporto al volte ossia la possibilità di aumentare la qualità delle chiamate telefoniche utilizzando anche la rete dati per la voce che però qui in Italia ragazzi ovviamente ancora non abbiamo se non primi tentativi di alcuni operatori ma probabilmente entro fine anno qualcosa si muoverà di più come piccolo difetto se vogliamo dire così che scalda leggermente quando è sotto sforzo quindi questo va a inficciare oltre alla batteria anche la tenuta in mano che risulta un po' sgradevole specie in estate se vogliamo questi sono i piccoli difetti che possiamo trovare in questo telefono che comunque vi ribadisco consiglio 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 se avete qualche dubbio o domanda mi raccomando lasciatemi lo sotto nei commenti cercherò di rispondere a tutti quanti mi raccomando seguitici qui su Macatech perché a breve spero arriverà l'Oxia Meme 5 e faremo la recensione di quello sicuramente confronto anche con questo Mi 4S per vedere cosa conviene comprare e iscrivetevi al canale un bel pollice alto e vi saluto un saluto da Matteo per Macatech ciao e adesso quale scelgo ho un'idea si vuole un brindisi no 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 guarda guarda un asino che vola incredibile un asino gigante guardalo su in alto io vedo solo vacchio ah vediamo un po' qual'è quella mamma mia questa è fresca questa è bollente sicuramente questa oh finalmente andiamo alla solita alla nostra e vai la solita birra calda hai proprio ragione caldissima che costaccio questo